Sparse per Rook Island, Vaas li usa per controllare le zone circostanti. Quindi andiamo a combattere? Sì, per una buona causa. Prendiamo due piccioni con una fava. Siamo in guerra con Vaas. Sottrarre avamposti ai pirati è vitale per riprenderci l'isola. Se ne riconquistiamo uno, la zona diventa sicura. Questo significa spostamenti più veloci e nuove occasioni di renderti un guerriero più forte. Chi c'è sul pick-up? Guerrieri Rakyat, i veri Rakyat, che vivono nel cuore dell'isola. Grazie al Tatao si fideranno di te. Senti, apprezzo il tuo aiuto, ma io voglio solo salvare Lisa e i miei amici. E il mio fratello. Questo è l'unico modo di rivederli vivi. Sei fuggito dal campo. Sei sopravvissuto. È il momento di lottare. Siamo tutti uguali, Jason. La differenza è tra chi agisce e chi sta fermo. Ok, ce la posso fare. Una volta ero uno straniero come te. Non sei solo, amico mio. Aspettiamo te per iniziare l'attacco. Ciao, fratello. Comunque. Ora devi combattere. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del vostro amico MaxiGamer83. Oggi ci troviamo qua su al nostro gioco chiamato Far Cry 3 Classic Edition. Stiamo vedendo come qui preparano le armi. Questi nostri nuovi amici. Eh, però dai fratello, andiamo. Pronto? Selezioniamo e diamo il tutorial. Ok, perfetto. Abbiamo soltanto questa arma, ecco, perché... Eh, dai. Ma è da scomparci le armi. Dai, arrivo di nascolto. Liza, arrivo. Ciò è così, vai. Liza, sono qui! Vai. Dai, fratello. Ah, uccidila. Ti mancherò il cuore. Ah, mio Dio. Vediamo cosa sai fare, merda. Continua a sparare. Qualcuno ha bisogno di cura? Ah, 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 ah. Ma sei soltanto uno, sei. Ah, raga, mo... Liza, dove sei? Affanculo! Li saccheggiamo, li saccheggiamo. Ma tu, munizioni? 9 dollari. Oh, uccidila, uccidila, uccidila. Oh, uccidila, uccidila. Oh, uccidila, uccidila. Vediamo cosa possiamo saccheggiare. Eh, raga, lì, osso. Eh, che ting... Ma, perché nascondono le carte? Cioè, non ho un senso a scondere le carte. Eccolo. Poi, eccoci. Lisa, andrà tutto bene! Sono andati! Ora sei al sicuro! Non è qui. L'hanno a posto vicino da Banache, sotto attacco. Dov'è la prigioniera? L'abbiamo persa. Cosa? È scappata verso ovest in questa cazzo di isola. Ti spiego quando arriviamo lì. È scappata. Jason, sei degno del tuo Tatao. Degno di calcare la via del guerriero. Grazie, Enfraadme. Abbiamo trovato un tuo amico dal colono. Il dottore Ernart, a Ovest. È un posto sicuro. Non temere. Il dottore ti sta aspettando. A Ovest? Ti ha detto di che amico si tratta? No, non me l'ha detto. Ma continueremo a cercare gli altri. Se scopro qualcosa ti chiamo via radio. Cammina a testa alta, Jason. La tribu ti ammira molto. Allora, prima cosa da fare è prendere sti cosi. Ah, poi, adesso mi interessa. Allora, adesso non dovrei spiegare il pollo. Misericordialmente. Eh, raga, dove stanno? Ok, raga, abbiamo fatto una missione. Andiamo a prendere la macchina e andiamo dove dove andare. Ah, ma hanno cambiato. Ovviamente. Continuiamo, andiamo, raga. Che avrò te? Che avrò te? Sarò qui, aiuto! Stavi di nasconderti, eh? Ehi, mi servirebbe una mano. Sembrava vicini. Merda! Non ci riesci, eh? Eh... Ti mostrerò come lotta un guerriero. Aspetta. Che ti ha insegnato a sparare? Ah... Che cassa è lo attardo! Hai... Vittoria o morte? Uccidetelo! Tu sei morto, hai capito? Eccoci qua Ma è una cosa Mi prendo qua Stiamo anche Ma che cannato che ho tirato Adesso raga mi insegna a fare le curve Si fa così Non ce l'ho visto che è botta Ho ucciso qualche animale Vai raga andiamo Non vedo l'ora di riavere l'isola per voi Non mi hanno capito Per fortuna che ero qui Porto il riformimento medice Su questo veicolo Guarda io sono fatto a posto Queste cose Bengale non bengale Guarda qua Guarda qua come ando a corro Guarda qua Guarda Fredda 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 Ehm Fredda Ehm Di niente Fredda 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 Ah, beh, frate, me ne posso andare Ciao C'è quelli... Aia Che cannata che ho tirato Aia Ok, adesso possiamo andare a qualche altra parte Così, dai Dai, andiamo... Ma questo è quello che ho già sbloccato, sì Dai, andiamo sulla moto d'acqua, andiamo Vai, aca Ma qua dopo dobbiamo libera da tutti, però... Qua lì sono altri dettagli Fai... Fai... Ecco qua non sei situazione Ok No Saliamo Ma dove, che torre trasandata Vai, saliamo E con questo, raga, dopo ci vediamo nel prossimo episodio Sì, lo so, non abbiamo fatto niente di che, però S'ha fatto tardi Come si dice... Ah, nel mio paese S'ha fatto tardi Passiamo qua Ma c'è, lo posso andare a mani nude Allora, forse con la pistola è male Ma dove, dove salire? Ah, qua Ma? Ah, così Oh, la... Vai, carate rambi come se far bene stacca attacca e via del cannono un accampamento un giro righi una barca abbandonata sopra la riva